sono folli pro e siamo arrivati sui classi tutti con un nuovo amico vero? oh ci sei? vabbè sta raggando il pompa allora ci siamo con 10 ricompense cosa? che? oh mio dio ho il pompa schinnato ma bellissimo ma bellissimo il bel 15 fiocco schinnato grazie gioco mi conosci il gioco mi conosci troppo bene io lo faccio quasi una volta che c'erco le chiavi uso massimo e mi scoccio usare le cose io non so quanto mi fa spendere perchè adesso con un nuovo tornamento non è che mi piace così tanto ah no tanto non a morire i soldi non è un problema quindi che sono ricco sono ricco neanche quanto mi spende ma dai neanche così tanto sono di peggio allora resta questo questo si tutto qua giù dai siamo affettando ok 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 dai ora vado vado back royal bellissimo vai il 15 fiocco ma anche bello adesso ho qui schinnato 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 non schinnato questa roba che ho c'è 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 oh oh sono messo bene devo fare delle missioni dei zombi te ci sei ecco ci siamo ritornati e siamo con Darius mi ha dato due cose beh non sono nemmeno così tanto mori con un shark sono salito al livello 43 oh oh come ti chiamo che non mi ricordo più come ti devo chiamare mi passo in perdimento dove dove mi chiamo in che senso dove come ti chiamo nel video cioè cioè shark 2008 ma ti ho invitato ok come ti chiamo come ti chiamo shark 2008 20 perché eh no ma da dire così a voce andiamo eccoci insieme a Darius vai vai devi mettere no 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 normale incursione normale ma perché te c'hai te c'hai l'arma c'hai l'arma là perché la puoi mettere vai nell'equipaggiamento eccoci in partita eccoci in partita eccoci in partita c'hai l'arma lo spendo io proprio cioè io devo guardare da due posti io voglio un'arma fammi per mettermela con ma non te c'hai l'arma che cosa voglio farci allora? hai davanti a gente? io non ci sono da te è bello da te sto facendo due che io sto guardando due posti che mi stanno guardando due posti non c'è gente che c'è io non ho soldi per niente chiudete la porta però la pistolina oh io non ho niente ma se l'h5 alla varia no ovviamente io non ho schienato io non so quella che mi piace molto a me quella che non so come si chiama però è tipo è un pompa che sparava con quattro colpi ah sono anche io sono anche schienato molto forte molto forte questo colpi vero? insomma meglio l'altro dai quindici ve lo farai come vuoi sparare con quattro colpi dai quattro colpi no 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 dai non hai capito vai qui dici quello che fa più danno quello lì è un sottocollo e c'è una minigun minigun è quando ti ammazzino il vomito apri la porta ignorante ti pago io c'è il shop con tutti pompa così c'è con tutti pompa non solo con quelli tutti non dico con la minigun ah ovvio la minigun è minigun anche te di shop ovvio aia 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 scappi 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 c'è pochissima vita io dai scappi 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 mi sono cadute le cuffie e oh invo oh adesso c'è ancora una pistola la notifica noi 1500 non poco parlare ho provato anche l'rpd la notifica la notifica l'ai non so mi stanno girando sì uuuu bello mamma mia quanto fai schifo cioè toglilo subito se ce l'hai ti rinunisce il danno ma vabbè fai un colpico di ar vai ok adesso io devo prendere un'arma dalla cosa cioè devi andare a questa parte che vabbè se c'è qualcosa di buono ah qua non c'è qualcosa di buono e qua acquisto qua acquisto dei bonus no 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 Adesso potremmo girare in fondo per cosa mi dà una Guarda Hai letto qualcosa, giuro Ecco lì Dove c'erano io c'erano il mezzettino Dove sono io C'erano sensori Oh merda Oh no vieni da me Vieni da me L'assessore Vedete l'assessore C'è un accessore Ecco c'è un altro Grande tizio Quanta gente Quanta gente Mio dio Da dieci Ti seguono C'è un accessore Ma non c'è nessuno Ti ammazzano Tutti Marda Sei morto Ma non lasci il suono Non lasci il suono Devi morire Perché cosa state provando? Cosa avete provato? Ho un ascensore ma C'è te non hai idea del casino che c'è Adesso non c'è più niente sembra Ma che postura è poi? Che cosa è? C'è ma dove siete voi? Dopo guarda il video ma C'è un po' sto strano Sono in chiuso Dove siamo Vedete il bosco non è un po' Ma ho chiuso Qua c'è la Qua Qua dove hanno creato i zombie Ma che non muore questa? Ma te come si muore l'ascensore? L'ho aperto io E dove l'hai aperto? Ah no Almeno di sopra C'è una scalinata esterna o muoiono? o muoiono? o muoiono? Aspetta le miscine aumentate ecco le miscine aumentate cioè era un posto stranissimo te lo faccio vedere se la rifacciamo Luppo muori te lo dico povero ce ne rubano ah guarda che queste io mi sono messo bene forse troppo oh gli RPC vado a prendere anch'io no te l'avevo rubato l'ho rubato ma dai Mune ma sono da 10 si oh chi è? quel fottuto dietro ancora oggi ho girato mano ho più danni o 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 classifica ero 28 mi hanno dato la granata stordete ehm tigre al o io mi potenzio o 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 c'è c'è la macchina c'è dietro o 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